Siamo con Massimiliano Ventimiglia, amministratore delegato di E-Chart, oltre che fondatore appunto di E-Chart. Un panel molto seguito il tuo sul mobile, su come cambiano anche i comportamenti dei turisti attraverso l'utilizzo di iPhone e iPad. Cosa sta cambiando appunto nell'approccio anche per gli operatori in questo settore? Sì, intanto quello che sta cambiando principalmente sono le persone. Come sempre è importante partire da qua, guardare a come si comportano, a che cosa utilizzano, a che cosa fanno realmente. E quello che sostanzialmente stiamo osservando è che le persone stanno sempre di più utilizzando gli strumenti classici del travel, come strumenti di ricerca, directory, recommendation, consigli di amici, cose che negli ultimi anni sono diventate rating, sono diventate popolarissime, però lo stanno sempre più utilizzando da device mobile. Attraverso degli smartphone che sono nel numero in grandissima e rapidissima crescita. E che cosa vuol dire usarli da mobile questi strumenti? Beh, significa considerare delle dimensioni nuove, che devono far pensare a un piano di marketing che deve arricchirsi. Le dimensioni sono il fatto che la gente le cose le cerca in questo istante e vuole una gratificazione sul momento, non è disposta ad aspettare perché l'informazione gli serve ora. E l'altra tematica importante è che l'informazione deve essere rilevante nel contesto in cui viene cercata, quindi deve essere geolocalizzata, quindi il locale diventa veramente un asset importantissimo. Da un punto di vista di marketing, i grandi operatori, i produttori di advertising, le piattaforme, si stanno chiaramente adeguando e quindi stanno introducendo nel mercato una serie di strumenti grandi e piccoli che gli operatori grandi e piccoli del settore turistico devono prendere in considerazione nella loro pianificazione di marketing. Due esempi su tutti, io direi sicuramente Hotpot di Google, che è un prodotto presentato pochi giorni fa e che è un social recommendation engine, cioè un sistema di rating di locali, di posti, attraverso cui le persone possono dare dei giudizi e in cambio dei giudizi che danno ricevono delle altre recommendation basate sulle preferenze che hanno espresso dal network degli amici che hanno e quindi con un endorsement legato al legame di fiducia che c'è. E l'altro strumento che arriverà in Italia a breve, che Facebook ha introdotto negli Stati Uniti, è Facebook Deals, che è uno strumento che consentirà agli operatori di poter mettere a disposizione delle persone, dei consumatori, delle promozioni, delle offerte, con la variante importante che queste promozioni ed offerte si manifesteranno quando e dove, si manifesteranno sul cellulare dei potenziali consumatori quando queste persone diranno esplicitamente di trovarsi nelle vicinanze della location. Per cui in quel contesto, in quel momento, quando l'informazione è davvero rilevante. Il fatto che in Italia ci sia un alto utilizzo di telefonini, secondo te può favorire l'affermazione di questi servizi? Assolutamente sì. Io direi che se guardiamo i numeri, oggi in Italia c'è un parco telefoni dove il 34% è costituito da smartphone. La crescita è molto rapida. E se guardiamo alla curva con cui l'adozione di strumenti come l'iPhone, l'iPad, si è manifestata, è una curva ripidissima. Negli ultimi anni, se si pensa alle tecnologie che sono state introdotte sul mercato, non esiste altra tecnologia che abbia una curva di adozione così ripida. Nel mondo ormai ci sono circa 120 milioni tra iPhone, iPad e iPod Touch. Anche in Italia questi numeri stanno crescendo in modo importante e di conseguenza sta crescendo anche l'adozione degli strumenti di cui parlavamo prima. Grandi scenari, però chiaramente l'infrastruttura deve essere all'altezza della situazione. Forse sulla banda larga, con questo intendiamo tutto l'infrastruttura, in Italia siamo ancora un po' indietro. Sì, siamo un po' indietro e questa è sicuramente una battaglia o comunque un problema a cui noi operatori, soprattutto nell'industria delle telecomunicazioni, ma del marketing, guardiamo con sguardo particolarmente accorato. Il problema è sicuramente un fatto strutturale, cioè è un fatto di investimenti e di ritorni degli investimenti. È perfettamente comprensibile come le grandi aziende delle telecomunicazioni italiane non accettino di sopportare l'investimento in modo diretto e da sole quando è abbastanza effettivamente dimostrabile che il ritorno di questo investimento non è qualcosa che riguarda soltanto loro, ma ricade a pioggia su tutta una serie di soggetti. Pertanto è davvero necessaria una presa di coscienza da parte dello Stato, da parte delle autorità ed è interessante il fatto che molti contesti cittadini, comunali, piccoli e grandi, stiano cercando di trovare anche delle vie alternative, cercano di rendere wifi delle aree, cercano di trovare delle soluzioni che intanto consentano la transizione, però è un punto molto strutturale, molto importante e di natura strutturale, dove nessuno di noi nel proprio piccolo può fare molto se non spingere, spingere forte, far capire quanto questa cosa ci può servire ed è importante e sperare che chi governa il nostro paese prenda coscienza di questo e riesca compatibilmente con gli altri impegni a trovare presto una soluzione per questa questione. Grazie a tutti!